blu la casa dei giochi ciao bimbi oggi ho deciso di colorare un bel disegno insieme a voi guardate ho chase dalla poo patrol adoro questo personaggio è proprio un cucciolo super bravo per fare il muso e le zampette di chase abbiamo bisogno di un marrone molto chiaro io non ho questo pennarello e quindi l'ho fatto con un pastello il risultato è comunque è bellissimo e poi mi piace un sacco mischiare diverse tecniche per fare i miei disegni quindi 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 qui quindi quindi qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. coloriamo il muso e le zampette Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi coloriamo gli occhi. Grazie a tutti. Ed iniziamo a colorare con il marrone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.